Vediamo come si sente Lo possiamo fare entrare allora Facciamolo entrare, facciamolo entrare Prego Facciamolo entrare, ci siamo E chi lo presenta? Visco, lo presentalo tu Vai, vai Signori, proprio dal... Non me la sono preparata Comunque, è grande È un immenso piacere Avere qui con noi Per la prima volta sugli schermi di Atleta TV Ospite qui a Studio League Let's Coach dei Desire Gine... Fabrizio Ginestroni Buonasera Buonasera, buonasera Grazie Buonasera, buonasera No, figurati Grazie a te per aver accettato Per essere qui con noi E per poter partecipare Allora, sembra effettivamente Che tutto funzioni alla perfezione Però non diciamolo troppo forte Perché non vorrei che Improvvisamente qualcosa Si rompa tutto Vada storto Vada stortissimo Allora, Gini, intanto Come va? Come stai? Come sta procedendo? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene, dai Qua come va? Ma, diciamo che Stiamo a campare Cerchiamo di andare avanti Di scoprire un po' di più Di quello che ci aspetta Della prossima stagione Del PG Nationals Dell'Issia Per gli andati dell'Issia Ormai sappiamo tutto Viscale Cardiga Nel frattempo Volevo anche ricordare Che in questo momento È anche in onda Brasile-Croazia Primo quarto Non ci ho dimenticato Cazzo, devo vedere Che è troppo interessante Primo quarto di finale Del modello di calcio Al momento Le due squadre sono Sullo 0-0 Occasioni per entrambe Le squadre Durante un primo tempo Abbastanza equilibrato Con forse la Croazia Che avrebbe meritato Qualcosina di più In questo momento Vero, vero Io mi faccio Gine, tu segui il calcio Giusto così Proprio domanda sporadica Più o meno Più o meno Più o meno Vuoi dire no Gine Puoi anche dire no No, no Lo seguivo molto Di più Ok Poi è droppato Quindi non lo segue più Ha fatto bene No, poi Poi non lo giocherà Lig Ecco Appunto 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 È sempre quello Il problema Principale Allora Gine Un'importantissima domanda Quale due è il disc? Io che non lo so Quella di Yu-Gi-Oh Tu hai un due è il disc Da Yu-Gi-Oh Da, mi direi per forza Cioè Non possiamo iniziare Non possiamo continuare Con la live Se non vediamo Il due è il disc Ragazzi Io vi vorrei solamente dire Che Nei miei piani Del video di presentazione Del roster Per i Red Bull Factions C'era quello di utilizzare Un due è il disc Insieme a Foma Sappiate Mi hanno bastonato E bocciato l'idea Ma Nei miei viani c'era Aspetta Foma veniva evocato O era il due è lato? No, no, no Lui evocava i player Con Ah, ok Bellissimo Bellissimo In che posizione? Scusa che mi sono curioso Beh, dipende In posizione di top Qualcuno era Non ho capito Non ho capito Era tutto molto nebulosa Come cosa Ah, ho capito Un po' Va bene, va bene Un po' complicato Infatti è stata bocciata La faccia di Nick Volevo vedere Però Queste cose mi mancano Da vedere Era più o meno così Allora Facciamo Dual disc Foma Che ok player Va bene Era tutto fin troppo Nella mia testa Tutto vero Grazie mille E' un gemmo Grazie mille Partito Anche nello scorso Proving grounds Come è stata questa esperienza Del proving grounds Forse la prima Forse la prima più importante Per te Come coach Come head coach E' stato divertente Intenzione fare Fare Poi cosa fare E ho detto Ci provo E quindi era partito Un po' per caso Perché scherzando Con un po' Di ragazzi Che conosco Dicevo Ora vado a coach In second D Ve la vinco Una gag Sarà una gag Ma intanto è successo Nel senso Quanto Cioè Tu per Essere coach Per diventare coach Quanto è stato fondamentale Secondo te La tua esperienza Da giocatore Allora La La cosa in cui Mi ha aiutato di più E' stato sicuramente Tutte quelle volte In Scream Dove i ragazzi Mi dicevano Se facciamo questa cosa Mi sento In un certo modo Ok Ok E quelle sensazioni Le hai provate Ok Quindi Quindi li puoi capire meglio Sei più empatico Dici Non penso sia Strettamente Necessario Ecco Perché questo Ti volevo chiedere Cioè Secondo te Per fare il coach Bisogna prima Aver fatto il giocatore No O non è Necessario L'importante è avere Una Conoscenza del gioco Però non Non è Certo Anzi Secondo me E' molto più importante Sapersi rapportare Con i ragazzi Che La conoscenza del gioco Perché Più sali di livello Più i ragazzi Comunque sanno Come funziona il gioco No Certo Quindi l'importante E' riuscire a creare il gruppo E Farli funzionare Anche quando Ci si scontra Perché Inevitabilmente E' cinque persone Che A volte Non per forza Vedono lo stesso modo Quindi l'importante E' Fare in modo Che si arrivi a una conclusione Dove siamo tutti felici E tutti si va Per la stessa strada Io sono Io non sono d'accordo Invece Cioè secondo me Il fatto che Un coach sia stato anche Un coach sia stato anche player Aiuta moltissimo Secondo Dal mio punto di vista Quello abbiamo visto anche In finale Può aiutare Allora può aiutare Ma è davvero la cosa più Davvero così fondamentale Allora Ci sono delle eccezioni Però secondo me Ha più peso Di quello che la gente pensa Dal mio punto di vista Anche io inizialmente pensavo Non avesse così tanto peso Nella situazione Invece poi Vedendo Ripeto Il mondiale O anche altri esempi Nel mondo dell'e-sports Secondo me Un coach Che ha fatto da player O che ha raggiunto Anche un buon livello Non dico per forza Pro playing altissimo Può fare la differenza E' più empatico E capisce meglio i player Secondo me Scusate Breve parentesi Volevo salutare Avataro Sono felice che sia tornato E vorremmo anche Ringraziare Anche Elvis Powell Ma vorremmo anche ringraziare Per il follow Ad Hannibal Subito dopo Gli tolgo Il ringraziamento Perché scrive Il follow lo rimetto Te lo tolsi Dopo che avete vinto la finale Ma solo perché C'è lo special one Quindi manco per noi L'ha messo L'ha messo per Gine Grazie Gine Allora Grazie Hannibal E comunque per il follow Però scusami Bastante Perché ci hai tolto Diciamo Fammi capire Quindi fammi capire Special one Ovviamente riferito a Murigno Perché appunto anche tu Immagino Sei per i giocatori Un forte motivatore Quindi ti dicono Che sei scarso All'accocciare Di fatto E' nato E' nato come meme Semplicemente Mi hanno photoshopato Su Murigno Con scritto Lo special one Di pro group È una gang Continua Praticamente Questo percorso Mi sta piacendo Bellissimo Lo sapevo Queste sono le puntate Che ti piacciono di più Non avevo dubbi Guarda Non avevo dubbi Su questo Senti Ma Provero come ti sembra Come livello Rispetto al PG National C'è tanta differenza Oppure le differenze Che poi Lo fanno diventare enorme Sono su solamente Alcuni aspetti Allora Penso che Questo Questo ultimo Summer Split Sia un po' Da prendere Con le pinze Perché noi Webidoo Eravamo Davvero forti Per il livello Di Proving Grounds Sì E penso che Sia noi che Webidoo Potevamo tranquillamente Giocarci Uno spot Non ti dico Giocarci playoff In PG Però essere lì Con Samsung Ok Attenzione Non le forti Se non in top 4 Almeno vicino Secondo me Sia noi che Webidoo Non avremmo fatto Ultimi due post In PG Ok Ok Però questo è da prendere Un po' Vabbè Meglio degli Sport Empire Penso che avrebbero fatto Tutti effettivamente Però questo Elvis Gine in PGNAS È stato confermato Il 16 ottobre Rinnovo del Del contratto Per Gine Che è stato proprio Confermato Come coach Per un'altra stagione È stata la prima Cestezza in assoluto Del PGNAS Sì Me lo ricordo Me lo ricordo male Mi ricordo Però la data 16 ottobre Non mi ricordo perché Cioè Briss è big fan di Gine Si ricorda proprio Numero uno Ti senti pronto Per il PGNAS Come head coach? Sì Velo con quella faccia Con te Uno deve essere Sicuro Di due mezzi È giusto così È giusto Ma certo Infatti Sono Non vediamo l'ora di vedere Tra l'altro Quanto ti senti pronto Per questo PG Quali aspettative hai Da questa stagione? Allora È un po' È un po' diverso Perché quando ero Improving Grounds Sono entrato Con la consapevolezza Cioè Magari qua Mi prendo un sacco di flame Però io sono entrato A coach Perché ho detto Anche se inizio ora Sono meglio di tutti gli altri Invece ora andando in PG Sarà Sarà diverso Cioè È più la voglia di mettersi in gioco E vedere fino a dove Posso Posso pushare Per quanto riguarda Il roster Non dirci ovviamente No no Dicelo Ci mancherebbe Se ce lo vuoi dire Gine Ce lo dici tutto Ci mancherebbe Io volevo più che altro capire Se L'intenzione Non so se tua Ma più che altro Dell'org È quella di Costruire un roster Che possa puntare Magari a vincere A essere da subito Protagonista O magari essendo Il primo Splitting PG Nation Chancese di fare un roster Che insomma Miri più che altro A capire un po' Come funziona Qual è la situazione E Non dico essere Protagonista Ma nemmeno A A essere Gli ultimi della classe Ecco In questo senso Comunque è Una via di mezzo Allora L'obiettivo Nostro Questo split Sarà Il group stage Quindi che sia Vincendo PG O dai play in L'obiettivo Quello rimane Quindi top 2 Comunque Al PG Nation Non ti Non ti sto a spoilerare Il roster Perché siamo In Direttore di arrivo Non te lo chiesto Infatti Io Capire Però Ci mancano Gli ultimi Dettagli Legali Con Gli ultimi pezzi Però Ci siamo E Non aspettatevi Roster Classice All'italiana Con i Con grandi nomi Però E Un roster Pensato Cioè nel senso Un roster Ragionale Non è prendere Le figurine E metterle lì Le migliori figurine Ma Un roster Che ha senso Di esistere Ti do L'unica L'unico Spoiler Che poi non è uno spoiler Che ti do È che manterremo Rilech Dal roster Di Proving Grounds Ok Interessante Questa scelta Pensate quindi Che lui sia pronto Sì Già da Già da Proving Grounds Senti ma pensi che Rilech O Rilek Io l'ho sempre chiamato Rilek Quindi stavo per richiamarlo Rilech Perfetto Pensi che sia Il giocatore Che è cresciuto Di più Insieme a te Durante la stagione In Proving Grounds Sì Quindi è in un certo senso Il simbolo Che ti vuoi tenere A portare Fino a Dove siete arrivati Noi l'abbiamo preso A inizio summer Cioè Durante l'off season Per il summer split E L'idea da subito Era quella di portarlo in PG Infatti Cioè Nel contract database Non il global contract database Ma l'EPD Che è quello Ufficioso Lui Lui Sin dal Dal summer scorso È firmato Fino alla fine Di quest'anno Del 2023 Cioè del prossimo Del prossimo Ah Fino alla fine Del 2023 Sì Ah però Quindi noi l'abbiamo Messo sotto contratto Per un anno e mezzo E l'idea era Di arrivare in PG E farsi un anno Con lui E Vedendo come ha Performato con noi In official In scrim E quando poi abbiamo Comunque scrimmato I top team In Italia Durante Red Bull Factions Penso di Di essere felicissimo Di averlo Ti senti confident Sì ma io Lui non ho mai avuto dubbi E lui Ne ha mai avuti dubbi Cioè lui come Come si presenta Allora se c'è Se c'è una cosa Che ammiro Anche perché Appena 17 anni Lui voglio dire Non è che dici Già un giocatore Navigato Quindi Bisogna capire Anche questo Se c'è Se c'è una cosa Che ammiro Di lui È che A differenza Di tutti I rook italiani Che possono entrare in PG Hanno voglia Di distruggere tutto E non si fermano Alla prima cosa Che va male Ok Ci va sempre La voglia di migliorare Sì Se loro vogliono migliorare Vogliono vincere Questa è una cosa Che rispetto tantissimo E che voglio Nel mio team Cioè voglio persone Che non sono qua Giusto per Non ho trovato nulla In major E quindi Vado in Italia Quindi Qualsiasi mio roster Saranno cinque persone Che hanno voglia Di migliorare Di mettersi in gioco E E arrivare al risultato Che è la cosa Vi auguro Vi auguro Vi auspico Visto il video Di Deugemo Facciamo una colletta Per mandare Pischi A fare il campo In Corea Quale campo? Quello di Frago L'epolo cannone Ah Ah Il campo Nel senso Il bootcamp Ah ok 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 L'altro giorno Ho tra gli amici Mighty Dragon Mi scrive In chat Mi fa Chiedo scusa Ma sto eliminando Tutte le persone Che sono sotto il gold 4 I'm really sorry Vischio E ho fatto Brutto pezzo di Ben Che fa Guarda tranquillo Hai tempo Puoi scalare Ce la puoi fare Credo in te Ti do un po' di tempo Si scala Si scala Si scala L'anno prossimo L'anno prossimo Vi sono l'anno prossimo Che cosa cerchi Domanda per te Da parte di Elvis Powell Gene Che cosa cerchi In un player Oltre un'attitudine Caratteriale adeguata Cioè sulla pratica Che Immagino che sia nel senso Che tu Che stile di gioco Vuoi dare Al tuo team Parlando proprio tecnicamente Hai uno stile in mente O Quello Ti adatti più alto Invece A come può essere Il meta e tutto Dipende Allora dipende dal ruolo Ovviamente Però tipo Il ruolo in cui io Mi trovo più in disaccordo Con tutte Cioè Con tutti i coach Con cui ho parlato C'è un ruolo in cui Mi trovo spesso in disaccordo Ed è la di carry Ok Io voglio una di carry Che sia Molto bravo in fight Invece La concezione generale è In qualsiasi di carry Sa fightare Quindi quello che Gioca meglio in lane È più bravo E io non Non mi trovo Perché si parte quindi Da un presupposto Sbagliato Secondo te Cioè che tutti La di carry A prescindere Sanno team Fai Poi dipende dal roster Perché Cioè se io prendo Tipo i mouse Con leader E gadget Dove gadget Gioca la p-bot E leader Gioca la d-mid È un altro conto Ma quando Vuoi un roster Tradizionale Dove la di carry Gioca di carry Per me La di carry Deve saper fightare E non Non può Sbagliare Quindi parli anche Di positioning Immagino Sì In quella fase lì Non può Non può sbagliare Ok Ok Quello Quindi questo per esempio È la di carry Poi ovviamente Per me L'importante È che il ragazzo Abbia Tanta Tanta voglia Di mettersi in gioco Poi ovviamente Ce ne sono alcuni Che hanno tanta voglia Di mettersi in gioco Però non ci sono Cioè non sono a livello Al momento Se dovessi fare Un esempio Di un giocatore Lc Che ti piace Che sa ben Ti infaitare Tu chi Chi chiameresti Chi nomineresti Giusto per fare Un paragone A di carry Nell'ac Sto pensando Chi c'è Nell'ac Comp Volendo possiamo Mettere in mezzo Anche upset Non ci saranno Il 2023 Per ora Però Può essere In considerazione Comp Upset Neon Xmatti Reckless Chi diavolo c'è Poi Carzi Ovviamente Jack Spectra A me A me piace Molto Upset Infatti Non sono Quindi Desire Upset Confermato Visto che lui Senza team No Non sono Molto felice Della scelta Di Fanatic Però Se è vero Il rumor Di Reckless Posso Posso capire Un attimo Perché Riprenderlo Secondo me Sarebbe una mossa Enorme A livello di branding Eh sì L'ultima mossa Enorme A livello di branding Di cui si è parlato tanto È Cristiano Ronaldo Alla Juve E sappiamo tutti Come sta andando Quindi Non so Se proprio Si ha La scelta Per esempio A me La di Kerry Che è piaciuto di più È stato Viper Nel mondiale Ah ok Ok Sì Sì 2021 È in una forma Pazzesca Viper Anche nel PL Oltre che al mondiale Era di un altro pianeta Non so Come l'abbia fatto E recco Stai Fanatic Che è uguale Ronaldo Non manceste No No Più Ronaldo La Juve Più Ronaldo La Juve Cioè se vuole fare Il paragone Del ritorno Di nuovo Sì È più simile A Ronaldo Al Manchester United Però Se finisce Con Ronaldo Al Manchester United Significa che Nello sprint split Avremo un altro Di Kerry Upset Scusa Upset 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 Fa comunque Parte del rosto Dei fanatici Già Lì propaga Dei fanatici Saba di Kerry Senti C'era una domanda Invece di Giannetti Prima che ci siamo persi Che ci dici Del Ciovi di Cosenza Il rookie Delle Calabrie Il faker Dell'Aspromonte Vigil Sì Immagino di sì Io Sono Allora Non sarà con noi Eh sì C'è Xonix Quindi non può essere Ho sentito Ho sentito Che Avrà un team In Pigeonuts E questo mi rende Molto felice Perché secondo me Si è giocato Uno split Molto 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 Bello E ci ha Ci ha portato Tanto Quindi Sono molto felice Che abbia Finalmente uno shot Perché secondo me I due shot Che ha avuto Sono stati un po' Così e così Perché il primo Fu in MOBA In uno dei primi PG Si Saluto a MOBA E poi E poi L'altro era in SPK Il roster Quello con Robin Gooby E Glebo E da cui fu benchato Quindi Comunque Sono passati un po' Di anni Quindi spero che Avrà imparato No? Quindi Penso sia migliorato Quindi secondo me Farà uno showing Molto migliore Degli altri Split che ha fatto Anche del Proving Grounds Cioè anche del Precedente Summer Due split Secondo Joan Rimango dell'idea Che in OP Academy Giocassero solo Si Cioè Era abbastanza 1v9 Però Poi non si sono Qualificati in playoff Quindi un po' Allai Allai È stato un po' Un po' snobbato Senti Una Vai finisci pure Finisci pure No Cioè Sono felice Comunque Che con noi Poi ha avuto Un bello split Perché è migliorato Tanto E quando L'abbiamo preso Lui mi disse Mi sento come Se in ogni split Non imparo mai Champion nuovi E alla fine Ci hanno bannato A Zir Che non aveva mai giocato Ecco Quindi Senti Una curiosità Una curiosità Visto che tanto Oramai stiamo parlando Un po' Di tutti i giocatori Che hai avuto Nel precedente split La domanda Te la voglio fare Sulla botlane Perché si è sempre parlato Di Tyone Harry Ma quando Provano il PG Quando ci sarà Occasione per loro Di mostrarsi Harry tra l'altro Nell'ultimo periodo Almeno A prima vista Ai miei occhi Ai miei umili occhi È sembrato Un giocatore Che ha fatto Enormi miglioramenti Partita dopo partita Quindi Volevo sapere Da te Che cosa Che cosa ti è sembrato Se vuoi parlare Prima di uno Poi dell'altro Se pensi Che possono avere Anche loro Un'occasione In PG Quest'anno Allora Da quel Da quello che so io Non Non so se Troveranno Team in PG Penso che Entrambi Siano Due talenti Enormi Cioè Secondo me Sono due ragazzi Che hanno un sacco Di talento E Tyone Rispecchia Quello che Cerca in una Di carry Che io Non gli ho Quasi mai visto Sbagliare un fight In Cioè Tipo Un gran mistake In un fight Infatti Anche quando Giocavamo Scream Contro Team più forti Ogni volta Ogni volta Che arrivavamo Mid to late game Even O non Troppo behind Lui smarfava Ogni fight Quindi Secondo me Lui ha un sacco Di talento Che però Cioè Alla fine È il problema Un po' Di tanti Di tanti italiani Che secondo me Non lo pushano Quanto possono Cioè In che senso Tanti Tanti player Hanno un sacco Di talento Però Fare il master Gli va bene Non si prova mai A fare Si accontentano Si accontentano Esattamente Quindi questo è un po' Il feeling Che ho avuto Henry invece Anche lui Ha un sacco di talento E in summer split Non era la mia Prima scelta Tra i support Era la mia Seconda scelta Ma quando Il ragazzo Che volevamo Firmato un altro team Siamo andati Per Henry E in due settimane Mi ha fatto Ricredere Dopo due settimane Ho detto Perché non Abbiamo preso Lui subito Perché Magari Al Al primo Impatto Non sembra Insane Ma Inizia A scrimmare Team più forti E Si adatta Subito Gli spieghi una cosa E la mette subito In pratica Con noi Ha avuto Un miglioramento Henry Enorme Già nelle prime Settimane In scrim Prima dell'inizio Del torneo Infatti Quello che mi aspettavo Io Da Proving Grounds Era Ok Partiremo Un po' sotto Webidoo Perché secondo me Webidoo Aveva un roster Che sulla carta Poteva fare Meglio All'inizio Ma tanto Il mio obiettivo Era Arrivare in finale Contro i loro E outscalarli Outscalarli Durante lo split Si 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 Invece Noi siamo già partiti Che Nella seconda settimana Ci abbiamo giocato contro E li abbiamo battuti Quindi Quello è stato Il frutto Delle settimane In scrim Prima del torneo Dove Tutti sono migliorati Tantissimo Ci chiedono Se l'avete scrimmata E l'ice Support Tra l'altro Harry l'ha giocata Con noi L'ice support Me la ricordo Ahimè Me la ricordo Domanda da parte Di Elvis Powell Punto di vista Come coach esterno Sul perché Delle debacle Dell'anno scorso Così palesi Come i Samsung In spring E gli Empire In summer Se è così semplice Vedere così tanti Upset In negativo Per qualsiasi motivo Possa essere Tra giocatori Voluti Non arrivati In comprensioni Fra compagni Credo che siano Anche due situazioni Diverse Queste Richieste Non so Cosa sia successo Nell'off season Di Samsung In spring Quindi Secondo me Il roster Era palesemente Bottom 2 Poi Ovviamente Fare 0-14 È brutto Però Quelli erano I valori È anche Una direll'altra Quelli erano Quelli erano I valori Dico Cioè Quando Il problema È che Quando poi Perdi così Tanti game Di fila Continui a farlo Ci sono Cioè L'ambiente Diventa sempre Pesante Magari i ragazzi Non vogliono giocare Tra di loro È difficile Comunque Tenere su Un team La colpa è sempre Degli altri Invece E-Sport Empire Viene da Secondo me È un insieme Di problemi Che vedo Nella scena italiana Cioè Secondo me In Italia Ci sono Tre Grandissimi problemi Uno è Il bias Del nameplate Quindi se Un player Ha fatto bene In passato Farà bene Di sicuro Secondo Le persone in Italia Il secondo È la paura Del nuovo Cioè In Italia C'è una paura Immensa di tirare Dentro Dei rookie Perché non hanno Risultati Quindi si connette La prima E La terza È Secondo me L'enorme incapacità Di Giudicare I rookie Ok Sì Con questo Sono Su quest'ultimo punto Sono In Italia Penso che L'unica persona Che Sa Scautare Dei rookie E farli funzionare È Cristo E l'ha fatto Con Ho Per esempio Quest'anno Ma tutti gli altri Sono Non vedo persone Capaci Di giudicare Dei rookie Questa roba È È preoccupante Perché Quindi di conseguenza Vai a prendere Per forza Quelli di cui Già Hai uno storico Che è funzionato Sì Perché Se guardi il roster Di Sport Empire C'era Sandal e Paradox E poi Si prende Tre player Che Sono andati Neomaster L'hanno fatto bene Ma poi Li devi mettere in contesto Perché Di Lebron C'è In Barcellona Giocavano tutti per lui Però non lo puoi mettere Con una botta in rookie Che non ti regge le altre lane Eh sì E Diventa complicato poi Sì Io C'è È molto C'è Non lo so A me non piaceva E Infatti Tante persone In cui avevo parlato Mi dicevano Che non gli piaceva Il roster Io ero d'accordo Cioè Perché secondo me Era Cioè Quando L'obiettivo di Sport Empire Dichiarato fu Andare Neomaster Mi sembrava molto strano Con Cioè nel senso Non voglio risultare tossico Però non penso che Non penso che Potevano andare Neomaster Con Quella botlane E quelle solo lane Perché Cioè loro hanno preso Lebron Che era ovviamente Un upgrade No? Ma hanno downgradato Le solo lane Cioè Icebreaker era molto meglio Di Rube E la top Era molto meglio Di Lamzess Quindi Loro hanno fatto Un downgrade In generale Al roster dello spring Pensando che Il jungle Avrebbe carriato Però Non funziona Non funziona così Esatto Soprattutto Quando Uno tipo Lebron Che Cioè Io uso lui come esempio Ma tanti sono così Era rimasto fuori Dalle major Perché da spring E summer È difficile Entrare in un team in major Quando rimani senza E quindi lui entra qua Entra in Italia E dice Voglio andare in omaster E poi quando succede Quanta voglia ha Di mettersi in gioco Però ripeto che Faccio il nome suo Perché è il primo esempio Ma ce n'è tantissimi Che hanno fatto così E secondo me Qua si torna Si torna al discorso De Chi ha fatto bene Deve fare bene di nuovo Perché Io In off season Ho parlato con tanti giocatori Che hanno fatto bene In passato Però Quando poi ci parli E ti dicono Ah l'Italia semplice Free o master Lì sai già che È vero In tanti pensano Questa cosa Sì 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 All'estero Soprattutto Sì 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 è vero E quindi magari Poi non si impegnano Nemmeno più di tanto L'Italia è come l'arte Non deve essere Presa sotto gambo Diciamo così Ah Diciamo L'arte Sì L'arte prendi otto E metti da parte Stai dicendo No no È una citazione Però non va Presa sotto gambo Cioè La vanno a Understimare Cioè non so come dirlo Dicono Sottovalutare Sottovalutare Sì Ma è semplice Lo facciamo Può succedere il casino Perché comunque Fanno un reality check Già dai primi game Come abbiamo visto In Sports Unpire Oddio ma sono forti gli altri Ma che è successo Così Allora Stavo La cantera di Lolle italiana No forse ho perso Un pezzo Ah sì Forse si riferiva Al fatto che Anche i GG Hanno portato Gente come Di Ace 610 Apples Lo vediamo Adesso Agli Outplay Anche Comunque Crystal Li ha fatti funzionare Solo localmente Ah Scusami Prima che mi dimentico Diego Tu ti ricordi Di Apples Aspettiamo la risposta Che si fu Guardalo Fizziamo la telecamera Così Perché io Non ricordo Se me ne parlasti Male O bene Ho un ricordo Ho un ricordo Che ne abbiamo avuto Dele Discussioni Nel senso Che ne abbiamo parlato Di Airpods In passato Però non ricordo Se bene o male Prego Scusami Visco se ti ho interrotto No Figurati Stavo leggendo Elvis Powell Che diceva Cristo non li ha fatti funzionare Solo localmente Allo Master Ha fatto più presenza Che a Vittorie Sempre con il discorso Che le strategie Late funzionano Solo a livello DRL Non accredited Ah si Per le impostazioni Di gioco Che mette Cristo Insomma Che lui preferisce Sempre scalare Però giustamente Poi All'European Masters Avevamo sempre problemi Ragazzi Io non penso Che un tipo di strategia Diversa Sarebbe fatto Proprio Tanto No E che lì È il livello Generale Che è diverso Non è che ha fatto Cose che non funzionano Perché vi sembrano Non funzionare in Europa Come La Juve in Champions League Sembra che non funzionano Perché stai perdendo In realtà Il problema Il problema Qual è il problema Dell'Italiano All'European Masters Il 2010 Secondo me il problema È un È un insieme Che C'è un insieme di cose Quindi Tu sei in Italia Quindi team forti Non vogliono scrimmarti A meno che Grandissime cose L'unico team Italiano Che ha avuto Good Scrims Penso che siano stati Tipo i Samsung Del Summer E YDN Dello Spring Perché c'era Peter Dunn Che vouchava tantissimo Sì E lì era Cioè lì penso che sia stato Uno dei split dove L'Italia ha avuto Best Scrims Però Stiamo parlando appunto Di 2020 Spring 2020 E Summer 2020 Devi partire dal fatto che Sei minor Quindi prenderai Gli scarti Delle major Esatto O rookie Però Quindi Già Ai player che Di base Non sono forti Quanto gli altri E Scrimmi Cioè la qualità Delle scream È peggiore È inferiore Certo Sicuramente Si Si unisce Cioè Sono due cose Che creano un gap Cioè il gap Non è enorme Però Metti una cosa Metti l'altra Poi ne metti un'altra Inizia a costruirsi Cioè io non penso Che I match Di questo split Non potessero Passare il girone Non penso che Cioè Tanti team Potrebbero passare Gironi Però Poi è quella win Che ti Ti doom Quindi Esatto Il gap Non è così Così enorme Non ci credo Sta veramente In live In Germania Che cazzo Però Questo Questo si riconnette Anche al secondo punto Che dicevo Che Si vuole sempre Gli scarti Cioè Si cerca Si cerca sempre Di prendere I player Lasciati fuori E mai dei rookie Non c'è progettualità Perché Se un team Volesse Fare della progettualità Potrebbe prendere Dei rookie Tenerli un anno Diventano LTR Costruirci L'anno dopo Esatto Bravo Invece Ti trovi con Tanti Cioè Alcuni LTR Good Altri mediocre E quindi Quelli good Possono permettersi Di fare Il brutto E il cattivo tempo In off season Mentre Se devi ricadere Su quelli average Non sei molto Molto felice No no ma Io Sono d'accordissimo Su questo Su cui spingo Spesso E sinceramente Non riesco a capire Perché Le organizzazioni Non hanno Il coraggio Di fare Questo tipo Di investimento Perché devi Puntare Per forza Vincere subito Quando invece Magari sarebbe Più utile Puntare A Avere Dei rookie Di fai crescere Insieme Soprattutto ora Che comunque Si è inserito Si è costruito Un sistema Per cui non c'è Manco più La retrocessione Tra spring e summer Te la puoi giocare Su più split Tutto quanto Cioè Dagli uno split Di tempo Per Maturare Per migliorare Poi nel summer Avrai già I primi Risultati E' un po' Un discorso Un po' Un discorso Difficile Perché Non fa niente Ovviamente C'è il discorso Dello slot Di mezzo Quindi nessuno Vuole perdere Lo slot Certo Però Per gli altri Anno Cioè Nel senso Lo spring E giocatori Un po' Di più I giocatori Più esperti Generalmente Non vogliono Giocare Con dei rookie Quindi Dei Dei far fittare Le cose Quindi O vai full rookie E speri che funzioni Oppure Trovi Trovi Cioè Io in off season Ho parlato Con dei giocatori Più esperti E alcuni Ti dicono Ma io Ho 24 23 anni Non posso Permettermi Di flippare Con dei rookie Che poi E' un discorso E' un discorso Senza senso Perché Cosa vuol dire Flippare Se un ragazzo Se un ragazzo Se un ragazzo è bravo È bravo Sia che ne ha 17 Che ne ha 25 Infatti E Altri invece Ti dicono Io c'ho Tanta esperienza So che non sono Il più forte Quindi Se mi dai dei rookie A cui posso insegnare Sono più felice Quindi devi riuscire A Affittare queste cose Secondo me Puoi vincere anche Facendo un po' Di progettualità Cioè Prendi Magari hai Quattro giocatori Esperti C'hai quel rookie Ma quel rookie Invece di un anno I contratti Ne fai due Il secondo anno LTR Parti da lui Questa è una cosa Che manca Cioè Non so Come No no Sei stato chiarissimo Come si può Sistemare Cioè L'ho capito Io Io mi sono trovato Un sacco bene In Desire Appunto perché Ho visto Relage Cioè Dovevamo buildare Il team per second div È molto difficile Costruire un In second division Italiana Perché Sei tipo Ci sono le major Le div 2 delle major E poi le div 1 Tipo anche grecia Queste div qua Che vengono preferite A pg no A second div Sì Parecchio Di praticamente Quasi tutte le accredited Vengono preferite Alle second division Quindi Se ora noi siamo in pg E a pg Viene preferito Le major E a volte I top team di div 2 Delle major In second div C'hai Le major Le minor In Desire E' stato che appunto Il discorso è stato Questo ragazzo Ha un buyout Noi lo paghiamo E lo prendiamo Per un anno e mezzo Ma dai anche sicurezza Al giocatore In questo modo Non ho mai sentito Non ho mai sentito Un ragionamento del genere Da un'orghe italiana Ma figurati Programmazione Nelle orghe italiane Perché No no E così Non ci sono Non ci sono Guarda forse L'unico Forse un po' I match Ma perché lì c'è C'è Corax Che è l'unico Uno dei pochi Che programma Che sa davvero Programmare Qualcosa Che per il resto Comunque vorrei porre Una domandaggine Dalla chat No aspetta 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 La deve fare La deve fare lei Ah la deve fare lei Scusami Sì Sì c'è una domanda Dalla parte di Evan È il mio momento È il mio momento Ok Visto che non sento Grazie signore Segretaria Vischio C'è una domanda Molto importante Che arriva dalla chat Per te Gine O anche tu Se vuoi rispondere Vischio insomma Evan8 Trattino basso Chiede Quanto sono belle Le palle di Gine Mai quanto Quelle di Evan Perfetto Perfetto Grazie mille Ha detto mai Quanto quelle di Evan Vischio sapeva Che aver letto Quella Io so che te la sei Salvata come screen E ce l'hai anche Come screensaver adesso Che ti rimbalza Sullo schermo Per forza Comunque brava Sussi che hai letto Così bene Anche il nickname Molto bravo Allora Hai letto perfettamente Così anche io Gine Che il roster Fulmire N Scolacciare tutti Da parte di Ciao Whiskey Ciao Whiskey Ciao Whiskey Comunque Sì Penso che avremo Uno dei roster Più giovani Di PG Ma infatti La mia domanda Era Prima hai detto Ho preso il top trainer Da terza divisione NLC No quello era No In Proving Ground Ah ok 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 Adesso In prima divisione NLC Forza Forza Ok Torna Kerberos No non era Kerberos Io Era un altro nome Va bene È contentissimo Abbiamo un segno nel cuore No ho perso La domanda La domanda è per Gine Ma Evan merda O Evan culo Merda Perfetto Possiamo continuare Con le Non lo so io sono più in culo Comunque Gine ma Evan Ha trovato un team Alla fine In PG Nationals Ha messo la gift del contratto Ha fatto la gift del contratto Tra l'altro E poi Quando gli ho fatto Evan Ma dove vai In Raccoon Ok Ok La gift del contratto L'ho vista anch'io Io intendevo Cioè Dov'è Cioè può essere ovunque In Europa In LCS In LJL Potrebbe essere ovunque E in Giappone In Giappone E mi fa piacere per lui Sicuramente lo pagano più in Italia Figurati Per forza Comunque Scusami Susi Io ho visto che hai messo La foto su Twitter Con le chiavi da Berlino Che ci fai a Roma Non sto capendo Ha detto Ho visto che hai messo La foto con le chiavi a Berlino Che ci fai qua a Roma Prego Devo rispondere Perché non sentendo nulla Non capisco Persa Confusa Comunque Che ci faccio qui a Roma In pratica Devo raccattare Tutti i miei averi Signor Reville Devo raccattare Soprattutto il mio gatto E i miei peluche Delle Evolutions Che sono le cose fondamentali Per vivere a Berlino Quindi sono tornata In chat si chiedono E per venire oggi qui in redazione Insieme a Vischio In chat ti chiedono Se hai un gatto Perché sei femmina Non ho sentito nulla In chat ti chiedono Se hai un gatto Perché sei femmina Ricordiamo Tra l'altro Che Susi Ha la chat davanti Non capisco Non capisco la domanda Io sinceramente No voglio fare No ne ho due Comunque Ne ha due di gatto Perché sono femmina Infatti Giovannetti Si preoccupava di quello Diceva Ma come il tuo gatto E l'altro Ah Giovannetti Si preoccupava Te ne porti uno Infatti No No Giovann Lasci un gatto qua No Non mi guardare così Allora Ti senti una persona Non possiamo far partire Un sondaggio in chat Bisogna veramente L'altro L'altro lo abbandona No non posso Di chi colore sono Quale porti Quello di colore O quello bianco Di gatto Quale lasci qui Ovviamente porta Quello bianco In A Berlino Porta quello bianco Perché sennò Scusi La risposta è pure ovvia Meno male che c'è Devo Germo Che mi salva il culo Allora so Si quali porti Salute a quale lasci No allora Cioè questa Non so se volete sapere Tutta la questione Riguardo Certo Certo che la vogliamo Comunque E ancora in forse E ancora in forse Comunque porterei Quello con Le chiazze Con le macchie Pensavo che stai dicendo Con le chiappe Perché dice Perché l'altro Non ci dà le chiappe Cioè come che funziona L'altro è grigio Per vostra informazione Ah ok Sì Uno è macolato E uno è grigio L'altro lo lascio A Joan Davvero? Sì Vediamo Però lui non lo sa In realtà ancora Ecco Joan Ora sai come fare 81 kg Victor giustamente Chiede Se si può avere Il numero Di quella bella Ragazza Nella cam In alto a destra Con gli occhiali No Susi Non sei tu Non so se l'ha capito Susi Che non è lei Era Gine Perché nel mio schermo In alto a destra C'è C'è Gine No c'è Gine C'è Gine In alto a destra Nel mio mi vedo a sinistra Dallo streaming No Dallo streaming In alto a destra Ma ce l'ha Ce l'ha il mio numero Victor Ah ce l'hai Importantissimo Victor E allora Ce l'ha il numero Buttana Posso termi Alex Susi Alex è il nome del tuo gatto? Sì Non glielo ho dato Io non mi guardare così Il vero nome è Alexander Tra l'altro E da dove era Dove l'hai preso Dove nasce Da dove nasce Eh alla presa Che era già grande Reville Quindi la signora Che me lo ha ceduto Si chiama Alex Si chiama Alex Io me l'ho fatto Un capito E mi ha detto Come si chiama Come si chiama Scusami 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 Hai una domanda Vergine Hai una domanda Vergine Sì Secondo te Mi dovrei portare Tutti e due Gatti a Berlino Anche se Un bullizza l'altro E quello Quindi soffrirebbe Ma chiedi una domanda A cui ti devi rispondere Per forza Tipo chi avete In top lane Portati Portati il bullizzato Portati il bull Giusto Portati Giornetti Il gatto Lascia Qualcuno qua Ha detto che vuole Gionetti fuori dall'Italia Io non vorrei dire nulla Però Gini è passato a parlare Di competitive E ha finito a parlare Di gatti Perché non siamo Che arrivati Alla parte finale Funziona sempre così No no E così È un posto Magico Domanda tecnica Invece Gine Per quanto riguarda Questa preseason Secondo te Cosa A livello Di competitive Cos'è che andrebbe Cambiato Modificato Cos'è che magari Ti aspetti Che verrà modificato Proprio per il competitive Che in questo momento Non funziona Non funziona Non so È difficile Da dire Ancora presto Sì Secondo me Ancora Ancora presto C'è ancora un mese Prima dell'inizio Della season Quindi Ancora da vedere I tank Sembrano Sembrano Belli forti Eh Con Ma non è colpa Degli add carry Che non sanno buildare Vabbè Il buff all'LDR Sembra Complete broken È un po' Ma non Non penso Fosse necessario Che il DL Era già forte di suo Non so No Dobbiamo buildare Collector Per forza È la game force E non fare un cazzo Di danni E lamentarci Grazie Bravi Ma Anche se hanno Aumentato un po' Il livello Dei solo laner E quindi Collector Sarà ancora più nerfato Ma io lo biglio Lo stesso Grazie mille Peppe 94 Grazie Vai 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 Fai la tua domanda Pareri sul nuovo formato LEC Idea di un power ranking LEC Allora Una alla volta Nuovo formato LEC Winter Spring Summer Mettiamo pure Le best of three In mezzo Le best of five Alla fine Cosa ne pensi Di questo formato Ci sono le BO3 Quindi mi piace Ok A prescindere Sì Mi piace Parere unico Giusto Così Idea di un power ranking LEC Come la vedi tu La REC In questo momento Visto che i roster Li conosciamo tutti Invece I G2 Mi sembra che hanno Un bel roster E Cioè Io sono Sono un fan Di questi Roster Tipo G2 Dove Rimane Broken Blade Rimane Caps Si prende Miki Senza Ma E quindi Jungle Mi prendo Il rookie Certo A me A me Perciò Un sacco Anche se L'obiettivo Era Selfmade In realtà Alla Ma ora Che Secondo me Ike Completely fine C'è Sì 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 No Secondo me Ancora Anche Meglio E ho detto All'interno Di quello Volevo dire Lioia Sì Scusate Vabbè Non so Perché Lioia Contra vincere Proveranno A prenderlo Fanno bene Dryons A blindarselo Finché possono Però Io spero Che Io spero Che vinca Elisi Uno tra G2 E Koi Perché Cioè Di nuovo Va via Odohamne Mi prendo Zizenda Dalle Earl Cioè Io sono Sono felicissimo Quando vedo Questi Questi Roster Move Lioia Ricordiamo Molto amico Di Niski Non ero Ironicamente Dovresti saperlo Certo Io Oramai Scusi Noi ci aspettiamo Per il 2023 Di sapere Tutti Retroscena Dei giocatori Cioè Sappilo Non so se mi sente Ah scusa È vero Devo riferirte Eh sì Sì Mi dica Ti aspetti Ti rischio Ti vuoi rispondere A caso A posto Ciao amici Sono tornata Detemi tutto Detemi tutto Volevo Volevo dire Volevo chiederti Cioè volevo dirti Che ovviamente Noi ci aspettiamo Per il 2023 Che conosceremo E sapremo Tutti In retroscena Dei giocatori Di League of Legends Dell'Elec Assolutamente Farò un blog Personale Su tutti i gossip Ok Però non metterò Il mio nome Perché altrimenti No No Parlerai in italiano Quindi non si capirà Chi sei Però Nell'anonimato Ovviamente Ci mancherebbe Ci mancherebbe Perfetto Possiamo togliere Andrea Vischio Buzzavo E mettere Con paint Susics Con paint No 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 Io sono Andrea Lei è Buzzavo Va bene Ti ripasso Lo scettro del potere Grazie mille Io volevo sapere questa cosa Degli inciuci fra Elioio e Niski Da parte di Gine Boh A quanto pare Non volevano giocare Di nuovo insieme Però Eh sì Elioio voleva andarsene Voleva cambiare aria Niski diciamo Che non era sicurissimo Del Della permanenza E invece alla fine Si sono ritrovati insieme Che contenti C'era altro davanti Sono stati molto Beh Magari hanno risolto Cioè nel senso Magari è stata un'occasione Per provare a risolvere I sapori Che avevano fra di loro E magari ci sono riusciti Nel senso Non Non lo sappiamo Però Ce lo auguriamo Ecco Mettiamola così A me piaceva questa cosa Della fusione Goten Se invece stanno lavorando Stanno fare in fusione Niente Potremmo fare Vischi Vischi su Sì Va bene Ok Salvateli Oio dei Mad Lions Ok Senti Prima Evan ha detto Se Deogemo Sincerà tutti I rostri di PG Evan ci dice dove ha firmato Eh fatti Vai Deogemo Eh ragazzi Ragazzi non li so tutti ancora Con calma Vabbè quello che sai Deogemo Dice Gine Gine non me lo vuole dire Che ci possiamo fare Io ci ho provato Ma lui Bocca cucita Come se Veramente Come se fosse una questione Come se lo pagassero Come se lo pagassero Per fare questo lavoro Mannaggia Ce lo puoi dire Mannaggia Un nome di Ti sparano Un nome lo puoi dire Un nome di Di quel Del mio roster Del roster Si Riles Ha detto Riles Ha detto prima Ha detto prima Io dicevo Una casa Vabbè Arriva Elvis Arriva Appena c'è qualche Nome in più Arriva Non posso Vabbè Ti do Non vogliamo Metterti in difficoltà Avremo 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 Un altro player Che arriva da TCL Attenzione Dove ciò Tocca a te ora Eh Me lo devo andare a studiare Me lo devo andare a cercare Piano piano Me lo cercherò Gina ricordati Le NDA Grazie Artan Perfetto Non rivelate i roster Ragazzi Non fatelo Anche perché Non hanno ancora firmato Esatto Non fate come Vischio Vischio non ha fatto niente Nulla Non fa troppo Vischio Non ho fatto nulla Nulla Di nulla Di nulla Di nulla Io ce la devo una domanda per Gine Vai Dai dove è andata Scomparsa Lo succede Succede Gine qual è Qual è la persona All'interno di League of Legends Italia Dalla quale pensi di aver imparato di più Nel ruolo di head coach Attenzione Dai è ovvio No non è ovvio Lo devi dire Gine Dai non lo so Cioè per chi è ovvio Cristo Attenzione Non lo sapevo Crown non è d'accordo Quindi Cristo Tuo padre Si può dire Ho un po' ridere Però direi si A me by far Dice Sono crowned E che Cioè È tipo È stato tipo Il padre che ti dice Quando cresci Mi darei ragione No? Ok Ok Quando Quando io facevo da sub E ho giocato Lo split Con gli Sparks Immagino Perché era quello A volte mi succedevano Delle situazioni In cui dicevo Ma quella roba Che mi diceva Robin Ecco Cioè Eccola no? Ora capisco Quello che mi diceva E un po' è stato È un po' stato lo stesso Perché Tutte le chiacchierate Che ho fatto con Kree Quando eravamo in Sparks Quando Quando eravamo in match Con lo split In cui è stato fermo Quando mi succedevano Cioè Quando mi succedevano Certe situazioni Mentre coccavo Dicevo Ah ma Quella cosa Ora Ora la capiscono E quindi Ho avuto Questo Questa sensazione Tipo Tipo il padre Che ti fa Quando crescerai Mi darei ragione Ho capito Ho capito Però Questo Va a dare ragione Ancora di più A quello che ho detto Io all'inizio Intervista Se vogliamo chiamarla così Che non ricordo Per rispondere Alla domanda di Foma Solamente il venerdì Solamente il venerdì Alla Quindi potete scrivere Le parole tipo cacca Comunque il fatto che tu sia stato player Hai inficiato in maniera molto positiva Un abito da cuci Ma sicuramente Sicuramente è stato Un grande aiuto Però Non penso sia Indispensabile Semplicemente Sicuramente è un aiuto Questo no Questo no Però secondo me aiuta moltissimo Sicuramente è un aiuto Abbastanza grande Giusto per salutare Vigil Di cui abbiamo parlato Tanto fino a poco fa Dice Non ho un team Non sono un player Mi dispiace Sei stato Beccato E' stato detto Che probabilmente Avrai uno spot In PG Sì Sappiamo che stai in PG Vigil Purtroppo Tu poi dovresti saperlo Ecco Viscchio Perché odi Vigil Tu Un'altra volta Io In realtà Quando sono andato A trovare Evan E Vigil In stazione Vigil Insieme a me Si è finito La bevanda Che avevo portato Mentre Evan Aia Chi non beve Che bevanda era? Una bevanda Una bevanda Una bevanda Una bevanda frizzantina Una bevanda Sì Allora Analystesca di PG Vigil Bene Perfetto Vigil non mi odia Mi ha anche offerto Una birra Vedi Il vostro posto In stazione Ragazzi Io famo oggi Lo vedo Veramente in forma Veramente Proprio oggi Sta carico a pallettoni Perfetto Analcolica Certo Analcolica Ragazzi Certo Analcolica Potrò dirvi Di che marca Era solamente Tra poco Forse Magari Quando diventerà Sponsor Degli atleta Esatto Certo Bravo Non sei Va bene Basta Non devo dire niente Andiamo Andiamo Siamo arrivati Dai Siamo arrivati A conclusione Direi che Abbiamo fatto Come al solito Due ore Belle piene E con Grandissimo apporto Da parte di Gini Che ci ha dato Uno spaccato Su quello che è Dietro le quinte Di una Squadra E soprattutto Noto Con piacere Che nonostante Molti coach Vengono da noi In realtà Poi comunque Ognuno ha sempre Un'idea diversa Magari combaciano Alcune cose Però ognuno Ha il proprio stile E le proprie idee Spesso differenti Questo Devo dirti la verità Fa capire tante cose Tutti quelli che vengono qui Però comunque Una cosa in comune Ce l'hanno Cioè? Mi sta sul cazzo Reville Guarda caso Guarda caso Non penso sia Ventiere E' vero Gine E' vero Gine Non mi esprimo Non mi esprimo Beh lo vedi Perfetto Elvis è per questo Che non sei coach Il primo passo Per diventare coach E' quello di odiare Reville E Bari Chiaramente Importantissimo Importantissimo La base proprio Perfetto Gine Il più grande rimpianto Da parte di Gionetti E non averti visto per bene Domenica Alla Games Week Ti amo E' molto particolare Il fatto che Gionetti Dica queste parole Davanti a Devon Davanti a Devon Che vergogna Non ce la faci Va bene Prego Allora Intanto salutiamo Gine Lo ringraziamo Infinitamente Per essere stato qui Oggi con noi Stiamo salutando Sì sì Lo stiamo salutando E ovviamente Tanti auguri In bocca al lupo Per questo 2023 Ciao Gine Grazie Ciao Bocca al lupo Grazie Ciao 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 Ciao